Ciao ragazzi, non sapete cosa è successo con Nicolás? Nicolás cambia di squadra e passa ad Emanuello. Allora, per capire un po', Nicolás ha chiesto un parere ai ballerini professionisti e ha chiesto se lui era pronto per il serale. Per me, sì, se parlo di impegno, assolutamente sì, ti meriti il serale. Meriti di andare al serale, sì. Tutti gli hanno detto sì, per il percorso che sta facendo, per la crescita che ha avuto in ogni puntata. Dopo è arrivato il confronto con Raimondo Dodaro e Nicolás ha detto la sua e Raimondo Dodaro pure. Ma però è stata una cosa che ha detto Raimondo Dodaro, che ha fatto scopiare tutto, che lui ha detto, Sofia ancora non ha preso la maglia. Subito Nicolás ha detto, io guardo a me, io non guardo gli altri. Ciao, Raimondo Dodaro, scusami, volevo solamente chiarire che, come sempre, no, da regolamento proprio. In mezzo di questo confronto, la produzione si mette e gli dice a Raimondo Dodaro. Qui, ognuno fa la sua squadra e Sofia non è della tua squadra. E tutto finisce che Nicolás vuole andare via, perché si sente da solo, perché non ha l'appoggio di Raimondo Dodaro. Solo dei ballerini professionisti. E allora, e dopo è arrivata la notizia che lui cambia squadra a Emanuele Loh. Nessuno se lo aspettava. E ditemi che ne pensate, ditemi se lui, per voi, è pronto per andare al serale. E niente, noi ci vediamo in un altro video con altri news e ragazzi. Alla prossima.